amici di zona skill di facebook e di pokers night buongiorno e bentrovati per la serie a volte ritornano eccomi vi ero mancata un pochino un po no tanto lo so che vi siete strappati tutti i capelli le maglie i peli che avete sul corpo e anche pantaloni perché non mi vedevate più io lo so anche se non lo ammettete e allora sono tornata e con una clip abbiamo preso tutto quello che c'era da prendere classifiche e novità quindi non schiacciate stop su questo video prima di vederlo finito altrimenti saltate in aria tutti ed è una minaccia attenzione partiamo con le classifiche le classifiche del weekend passato si tratta di poker il mini explosive con 7500 euro di garantito al primo un nick illegibile si comincia proprio bene allora mal con che che allora m4 l ch 0 n 0 c h 3 k 2 1 questo è il nick leggetelo fate un po che vi pare io non ci riesco o al secondo washington al terzo den pocio continuiamo con l'explosive sunday double chance della domenica alle ore 21 30 mila euro il monte premi garantito al primo posto dario bonzo al secondo mirabella asia al terzo raffa numero 5 al quarto prenda 74 prenda ciao bentornato e dal quinto and clyde continuiamo con lo snipe sp da 2500 euro della domenica alle ore 20 e 45 al primo posto questa settimana aian 3 2 1 al secondo moni cara fa e leggo mamma mia allora fermati moni monica monica ragazzi giuro vi giuro che io so leggere non so perché mi impiccio con i nick ma magari la prossima volta torno con gli occhiali allora monica raffaele raffaele go monica raffaele go ma che nick terribili vi odio old mone al terzo continuiamo con e concludiamo meno male con l'explosive high roll da 10 mila euro della domenica alle 22 al primo slam al secondo kit kat al terzo mandingo vedete che se li fate facili io li so leggere ho detto so concludiamo appunto con le news e le novità che snai vi offre per questa settimana partendo dal poker beh siamo per strada sì proprio per strada siamo per strada per l'explosive giocate satelliti free roll e quelli riservati ai depositanti per vincere un token per il mega explosive sunday 15 tk e conquistare un posto al tavolo dell'explosive sunday avete capito tutti in strada insomma giochi il carnevale sit and go dal 2 al 15 febbraio tre classifiche che assegnano un totale di 1500 euro per voi giocate sit and go di qualsiasi gioco presente sulla lobby e potrete così riuscire ad entrare in classifica queste le novità il ciuffo è sempre quello non si non si non ci delude mai vi ho letto prima le classifiche è sempre un piacere essere qui con voi baci abbracci e morsi da micol e ci troviamo la prossima settimana a presto